bene amici finalmente dopo un periodo di fermo per quanto riguarda la pesca a carp fishing io con demico stefano siamo riusciti a trovarci un attimo di tempo e a venire a pescare insieme un pomeriggio a carpe ci troviamo in questo nuovo posto nel fiume sile questa nuova postazione forse per in alcuni video è già apparso questo luogo comunque sappiamo per certo che le carpe ce ne sono parecchie appunto siamo venuti qua per cercare di insidiarle quest'oggi io sto pescando come potete vedere con due canne invece nemico stefano sta pescando con tre abbiamo deciso di di lanciare le nostre canne più o meno dove intravedete quelle aghe a pelo d'acqua noi siamo esattamente un po prima in un'acqua bassa invece sto pescando a ridosso della corrente del fiume sile che è un po' interno a questa stanza ricordo che se noi si va lungo questo passarella di legno se ne vedono parecchie una canna esattamente questa sto pescando a chiodo rig per cercare di stare un po più sollevato e con quello invece sto pescando con pera e pepe che mi ha dato grossi risultati come la pallina devo ricordare che tutte le farine che utilizziamo sono esclusivamente montecol dal mix per la pallina alla farina al dip all'aroma insomma tutto quello che serve per fare per il self made infatti stiamo usando molto nel fiume sile ultimamente il dip è datoci dalla montecol quello all'ananas che stiamo usando e quella ribes che sono veramente prorompenti comunque i dettagli ve li darò in un video futuro comunque adesso più o meno sono le sette e mezza di sera staremo qua ancora circa un'oretta e mezza speriamo che visto che qua noi sappiamo che il pesce inizia a muoversi a quest'ora di fare il risultato tutto sta nell'aspettare e vedere quello che capita ora ragazzi aspettiamo qualche partenza siamo qua da mezzogiorno e più o meno abbiamo visto un bip ma non fanno testo comunque noi siamo sempre ottimisti e speriamo sempre che qualcosa accada adesso aspettiamo e vediamo se riusciamo a far vedere qua di ventura Grazie a tutti 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 Grazie a tutti